Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Aldi, sinistra affitti Brianza e ti porto in visita in un appartamento a Besio nella zona del polo tecnologico. Ci troviamo in un monolocale arredato. Ingresso su Vano Upspace. Arredamento completo. Troviamo appendiabiti, tavolo da pranzo e cucina, postazione tv, ampie finestre, divano letto, armadiatura, raffrescamento e riscaldamento, parche, frigorifero e freezer e lavastoviglie. Disimpegno con armadiatura. Bagno con ventilazione. Sanitario, doccia, lavatrice e asciugatrice. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.desio.soloaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo affitti, affittare con sicurezza.